Ciao, sono Federico, un ragazzo di Preano, diplomato al liceo scientifico nel 2010 e dopo il diploma non ho continuato gli studi. Però posso dirvi che l'università non è l'unica strada per sentirsi soddisfatti. Ci sono altre strade, c'ho l'antoglia che il liceo mi abbia dato quella spinta, quella curiosità per partire, infatti sono stato a Londra, Inghilterra per tre anni, dove mi sono formato lavorativamente e come barman, socialmente come adulto. La curiosità nata nel liceo è continuata anche dopo, infatti ora il mio obiettivo è viaggiare, a incontrare nuove culture, scoprirle, sentirle e imparare da loro. Tutto questo in bocca al lupo e buon liceo!